mmmm mmmm che non mi hanno pecchiato ero semplicemente appoggiata così mi sono resa conto che avevo fatto una forma che cosa sto dicendo? come avrete capito dal titolo questo sarà un video interamente su snapchat perché ultimamente è diventata una delle mie app preferite quella dove passo più tempo quella dove posto 6 milioni di video a proposito se non mi seguite mi trovate con il nome Elena Mood e ho visto appunto che sta andando tantissimo ovviamente noi in Italia arriviamo con i vagoni in ritardo appunto è diventata famosa più tardi rispetto all'America che magari sono passati già 650 anni prima appunto di una settimana a questa parte non sapevo neanche cosa fosse snapchat ma tornando a noi questo video parlerebbe di snapchat ma non uno snapchat come ce l'abbiamo noi sull'applicazione ma snapchat nella vita reale perché mi è venuta questa cosa? non lo so, ho visto un paio di video al riguardo mi sono piaciuti tantissimo quindi ho catturato mia cugina per questo video e tipo l'ho costretta no scherzando poi alla fine vedrete i bloopers e capirete che è stato difficilissimo farlo prima di iniziare il video però volevo leggere il commento più bello che non ho letto poi alla fine perché ho detto che lo leggevo ma me ne sono completamente dimenticata che mi avete lasciato sotto il video di San Valentino quindi torno lì sotto a leggerlo in realtà sono stati due il primo è che questa ragazza appunto ha il nickname you and me e so che mi segue sempre perché mi commenta sempre su Instagram ed è veramente carinissima e mi ha scritto ciao Elena il video è bellissimo ci sono un sacco di parti divertenti ad esempio quando il tuo gattino Matisse ti voleva mangiare il merendine insomma appunto la parte che mi ha fatto ridere tantissimo è stata io e la mia amica comunque qualsiasi cosa dici o fai la trasformiamo in legge perché tu sei molto importante sei bellissima e simpaticissima ma è stato troppo 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 carina e poi il secondo commento è stato quello di Elena ha scritto complimenti per il make up e l'outfit sono stupendi comunque a me San Valentino non mi ha mai fatto impazzire sono finanzata da quasi sette anni e sia io che il mio ragazzo non ci siamo mai fatti coinvolgere coinvolgere tanto dalla festa che ormai è diventata più un pretesto per fare qualcosa e ha scritto questa frase che mi è piaciuta un sacco quando ci si ama ogni giorno è adatto per festeggiare l'amore insieme alla persona amata ed è verissima hai pienamente ragione non mi dilungo più in chiacchiere perché veramente so che passerei ore a parlare qui con questa faccia molto bella vi ricordo di rimanere sincronizzati anche alla fine del video perché ci saranno i bloopers finali smetto di chiacchierare e vi lascio il video ma c'è Elena come stai? quanto tempo che non ti vedo? è tutto il posto mi devo raccontare un sacco di cose allora praticamente ieri siamo andati tutti insieme abbiamo fatto i giorni andiamo a viaggiare sì ed allora è stato davvero un piacere incontrare anche per me ciao sicura di freddo amore ma quanti gradi ci sono? ammazzo oh mio dio ehi ciao Ele che cosa hai fatto alla faccia? quale faccio? di che cosa stai parlando? sai che ho visto guarda un video sulla maria delle risate si guarda te lo devo far vedere e poi costruire perché è bellissimo ah ma che ti fai cavoli miei? ehi Mari ti piace il mio nuovo cappotto? l'ho preso ieri da H&M guarda è in saldo non trovi che sia bellissimo? è davvero favoloso l'ha preso pure mia nonna le sta davvero bene ah ahhhh Mari ma chi ha un cervello appuntamento? le nove perché sono le nove e mezza oh mio dio sono il ritardissimo ah ciao no però mi devi prendere ehi come effetto? come effetto? si sta malissimo come effetto in faccia? è uscita bene? lei le donna davvero molto sembra una capra sono le nove e mezza oh mio dio sono in ritardissimo no ahahahahahahaha ahhh ahahahahahahahahah a mente sottofondo beh, rifacciamo la scena dei cammini ah, giusto ma riman... bella bella per rifarne un'altra ma si vede che il telefono c'è cioè che non ci dovrebbe... lo dovrebbe aver girato così, capito? bella questa